Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore podcast. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Come promesso vogliamo dedicare un video. Un video dove parleremo di molte cose. Lo faremo in maniera introduttiva. Quindi vogliamo dare una panoramica generale. Toccheremo alcuni argomenti che comunque nei numerosissimi video, sono oltre 14, che abbiamo portato sul nostro canale principale, Alessio 912, e toccheremo nuovamente anche in questo podcast, ma come una spennellata molto rapida. Bene, vogliamo quindi introdurre l'ascoltatore in maniera molto generica a quello che è l'argomento israelo-palestinese. Faremo anche un saltino nell'Europa e faremo anche un saltino negli Stati Uniti di America perché, ahimè, non è solo una questione di globalizzazione, ma comunque il mondo è sempre stato collegato. Bene, come già detto, soprattutto in Medio Oriente, come già detto nella giornata di ieri, nel nostro canale Telegram, che tutto quello che succede in Oriente Medio succede in funzione per e contro lo Stato di Israele e il popolo ebraico. Non c'è nulla di quello che succede in Medio Oriente che non sia in funzione di questa tristissima realtà. Bene, ricordo all'ascoltatore che per vedere tutti i contenuti del nostro canale Telegram devi essere iscritto, altrimenti avrai accesso solamente a quei contenuti di durata brevissima. Allora, come già detto, nei nostri numerosi video, negli anni venti del 1900 appunto si concretizzò il mandato britannico, quindi non vogliamo tornarci più sopra, se non che semplicemente ricordare che ci fu questo mandato britannico. Allora, questo mandato britannico praticamente aveva la consegna, no? Quindi aveva la chiave, aveva le chiavi otorgatagli questa consegna da parte appunto di quello che allora si chiamava la Lega delle Nazioni, che poi successivamente nel 1945 diventerà l'ONU. E quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, che fu creata a tavolino, proprio per abbattere questa grande barriera chiamata l'Impero Ottomano, era stato designato appunto da parte della Lega delle Nazioni la creazione di una nazione ebraica. Ok, in quel tempo esisteva una agenzia. Questa agenzia non voleva essere altro che l'agenzia giudaica. Questa agenzia giudaica fu molto importante per molti motivi. Uno dei motivi principali per la quale questa agenzia fu importante che fu questa agenzia che comprò a peso d'oro le terre che si trovavano nella malchiamata Palestina. Appunto quelle terre che non erano demaniali, quelle terre che erano in mano di privati e che questi non ci facevano nulla perché per lo più, per lo più, queste terre erano desertiche. In moltissime occasioni era proprio deserto, vero e proprio, sabbioso. e così via discorrendo. In quel periodo storico c'era un uomo chiamato Ahi Ha'amin Hussein. La famiglia Hussein, o Husseini, era la famiglia più potente insieme alla famiglia dei Nashashibi. Se non si pronuncia così, perdonatemi. Bene, chi era Husseini? Husseini fu un uomo molto rilevante per mille motivi. Fra cui possiamo ricordare che Husseini altro non vuole essere che l'organizzatore del nazionalismo arabo. Interessante notare che Husseini era contro gli arabi. Husseini obbligava gli arabi perché ricordiamo che i palestinesi all'epoca non esistevano quindi obbligava gli arabi che si trovavano nella malchiamata palestina quelli che erano terratenenti a non vendere le proprie terre appeso d'oro agli ebrei perché semplice gliele comprava lui sì ma gliele comprava lui in maniera coatta cioè lui non faceva offerte lui semplicemente obbligava questi terratenenti a vendere le terre a lui a due soldi dopodiché Husseini prendeva queste terre che praticamente non ci faceva nulla e le vendeva agli ebrei a un prezzo praticamente cento volte il valore che queste costavano interessante notare che ancora oggi sono fra di noi i documenti della compravendita di tutte queste terre al contempo Husseini prendeva i soldi del ricavato e utilizzava questi soldi per finanziare il terrorismo giudaico non solo nella malchiamata palestina ma in giro per il mondo non per ultimo l'Iraq gli arabi che in quel momento stavano sempre via più aumentando non volevano far parte del terrorismo e quindi Husseini praticamente concretizzò l'apartheid nel confronto di questi malcapitati gli arabi erano schiavi nelle mani di Husseini perché erano debitori con lui si chiamavano i Felahin a proposito ci sono diversi libri che parlano appunto dai Felahin a Hamas quindi da proletari da semplici agricoltori della terra a schiavi di Hamas quando erano dei Felahin erano schiavi di Hussein e la sua famiglia poi diventeranno schiavi di Hamas quindi schiavi dell'Egitto uno strumento principale dell'Egitto e di tutto quello che è l'apparato antisemita bene quei pochi Felahin che riuscirono a vendere la propria terra agli ebrei erano per la prima volta liberi perché potevano utilizzare il ricavato per essere liberi ma soprattutto con l'avvento degli ebrei nella terra di Erez Israele avevano la possibilità di fuggire dalle dai tentacoli di queste due famiglie appunto gli Hussein e i Nashashibi che concretizzavano nei loro confronti l'apartheid e quindi potevano andare a lavorare per gli ebrei i quali come già detto nei nostri video progressi erano socialisti quindi venivano da quella mentalità vedete appunto il video di creare appunto la libertà di creare l'uguaglianza di creare i diritti umani perché questo è il giudaismo ma ci sarà un video dedicato a tal proposito perché dovremo appunto tornare nell'antichissima messopotamia di 5-6 mila anni fa ma questa è un'altra storia e quindi questi questi arabi potevano lavorare per gli ebrei venivano trattati bene dagli ebrei venivano pagati molto bene dagli ebrei e soprattutto potevano scappare dall'apartheid che veniva concretizzato da queste due famiglie presenti nel loco di Hussein e Inashashibi tutte queste cose nessuno le racconta queste cose sono documentate e non solamente sono scritte nei libri di storia scritti da persone cattedratici e quant'altro di nome ma ci sono proprio i documenti che dimostrano ovvero che illustrano questa triste realtà bene quindi la famiglia Hussein e nello specifico Hussein Ahi Amin Hussein concretizzò il terrorismo vero e proprio non solamente contro gli ebrei ma contro gli arabi presenti nella terra malchiamata Palestina sì perché questi ebrei vedendo questa grande ricchezza che si stava concretizzando nella terra non volevano fare il terrorismo contro gli ebrei sì perché qui bisogna aprire una parentesi e adesso voglio un pochino improvvisare perché questo me lo sono preparato questo studio per seguire l'indice insomma adesso voglio aprire un attimino una una parentesi sicuramente voi quando guardate i filmati i filmati insomma i documentari sul sul sionismo vi faranno vedere una terra di Eres Israel popolatissima no tra virgolette popolatissima allora noi dobbiamo dividere ok l'ottocento in due prima dell'ottocento dopo l'ottocento quindi prima del 1800 dal 1800 in poi perché perché quando nasce il sionismo nel 1880 82 quello che è gli ebrei iniziano a fare alia abbiamo fatto il video sull'alià le sei alià ok che cosa succede che quando gli ebrei iniziano ad andare in Eres Israel iniziano a comprare le terre iniziano a coltivare le terre iniziano a creare l'oasificazione loro saranno i re dell'oasificazione creano ricchezza e questo attira gente e quindi molti arabi ok da molte parti del mondo dalla giordania dalla dalla siria e anche da altre parti andranno nel loco ok e quindi questa terra improvvisamente si inizierà a popolare grandissimamente prima di tutto questo la terra di Israele Eres Israel era per lo più desertica e disabitata salvo quelle poche parti tipo Gerusalemme Gaza e altre località il resto della terra era per lo più disabitata quindi Hussein concretizzò il terrorismo contro gli arabi palestinesi che poi i palestinesi nasceranno da lì a poco soprattutto il termine palestinese sarà concretizzato negli anni sessanta del secolo scorso bene fu Hussein che organizzò la rivolta araba la rivolta araba iniziò e durò dal 1936 al 1939 in questa rivolta araba voi sentirete che vennero uccisi 400 ebrei ma non sentirete mai parlare di 2000 arabi uccisi da chi furono uccisi questi 2000 arabi da Hussein perché perché questi arabi non volevano combattere la jihad contro gli ebrei perché stavano bene perché avevano trovato ricchezza perché gli ebrei non concretizzavano l'apartheid cosa che invece gli Husseini e i Nashashibi facevano perché l'islam è una religione poi di questo parleremo dopo che promuove lo schiavismo che promuove la schiavitù non so se l'ho detto ma chi vi parla è Alessio Evangelisti benissimo quindi i primi arabi ad arrivare nella malchiamata Palestina venivano dall'Argelia erano circassiani venivano dal caucaso ma poi verranno anche da altre parti appunto dal Libano dal dalla Siria e così via discorrendo anche se in quei tempi anche dopo nella Siria si starà molto bene poi verrà l'isis creato dagli americani e distruggerà la Siria ma questo è un altro discorso e quindi come già detto valga la ridondanza ci fu un boom un boom dell'arrivo sia dei musulmani e questo boom scusate il termine fu provocato dal boom economico e questo boom economico fu provocato dagli ebrei sì perché dove vanno gli ebrei si crea ricchezza si crea pace si crea benessere si crea uguaglianza l'esatto opposto della cattiva pubblicità che il mondo gli fa a proposito di cattiva pubblicità fra un po' parleremo parleremo del maledetto libro i protocolli di Sion ma abbiate pazienza Hussein non si limitò alla terra di Israele sottolineo si chiama terra di Israele ma andò in Iraq in Iraq massacrò gli ebrei presenti in Iraq che erano numerosissimi utilizzando i stessi civili iracheni ma con l'ausilio o il benessere o il benessere dei militari iracheni nota bene questo passaggio Hussein è noto a tutti che andò in Germania ma attenzione quello che non si dice è che prima di andare in Germania venne qui in Italia dove ricevuto da Mussolini come un capo di stato vero e proprio gli saranno fatti onori su onori su onori poi dopo l'Italia solamente dopo andrà a Berlino nell'autunno del 1941 ci sono filmati ci sono video ci sono testimonianze ed è emerso a Norimberga il processo nel 1941 a Berlino sarà ricevuto come un vero e proprio capo di stato anche lì dallo stesso Hitler vi era un'alleanza molto estesa e molto nota molto prima del 1941 già negli anni 20 tra l'Islam Hussein e lo stato non solo lo stato nazista ma tutto il movimento antisemita che stava nascendo in quegli anni perché poi Hitler prenderà il potere nel 1933 ma già da molto tempo si stava concretizzando l'antisemitismo perché l'antisemitismo è sempre esistito c'è sempre stato e c'è sempre stata questa alleanza con l'Islam cominciando già dagli anni 20 soprattutto in Egitto ma non solo quindi c'era questa alleanza molto stesa fra i musulmani e i nazisti lo stesso Iraq era alleato di Hitler nonostante Iraq facesse parte dell'impero britannico domanda ma l'impero britannico non lo sapeva? lascio a voi la risposta Husseini come già detto fece la rivolta araba fra il 36 e il 39 ve lo ricordate l'ho detto 5 minuti fa bene indovinate con quali armi combattè la rivolta araba con le armi che gli furono mandate da Hitler ma se ricordate bene vi ho detto che prima andò anche da Mussolini qui in Italia quindi anche Mussolini gli mandò delle armi a Husseini per combattere la rivolta araba dove vennero uccisi 2000 arabi 400 ebrei e la rivolta araba vi ricordate quello che ho detto all'inizio del presente podcast che tutto quello che succede in oriente medio succede in funzione per e contro lo stato di israele e gli ebrei nulla succede in oriente medio che non sia per questo unico maledetto satanico scopo torniamo al 1941 Husseini e Hitler si accordano per cosa? per sterminare tutti gli ebrei in oriente medio insieme Husseini non poté grazie al Signore grazie a Dio concretizzare questo macchiavellico disegno perché Hitler fu fermato a ottobre del 1942 a El Alamein ricordate tutti la seconda battaglia di El Alamein il 23 ottobre e il 5 novembre del 1942 Hussein che come già detto fu il fondatore del movimento arabo palestinese lavorò molto in Europa come il cervello e il mandante dello sterminio degli ebrei perché vi ricordo che nella campagna itleriana nazista non c'era il disegno dell'olocausto finale dello sterminio totale degli ebrei il loro disegno era un altro quello di prendere tutti gli ebrei e cacciarli fuori dalla loro nazione questo non annullò il fatto che molti venivano uccisi molti venivano trucidati ma non c'era un disegno di sterminio i campi di concentramento non erano stati creati neppur erano stati pensati tutto questo accadrà dopo quando appunto ci sarà questo accordo fra Hussein i tre oltre i filmati oltre le foto oltre le testimonianze ci fu un processo come già detto a Norimberga in questo processo furono intervistate diverse persone fra cui la più importante fu Dieter Weasley Sensi braccio destro di Eichmann braccio destro di Hitler Adolf Eichmann direttore dei campi detti della morte della soluzione finale la mente Husseini Dieter Weasley Sensi disse a Norimberga al processo che dopo l'arrivo a Berlino di Husseini nel 1941 diverrà il miglior amico di Eichmann e insieme disegnarono e amministrarono il sistema di tutti i campi di concentramento quando finirà la guerra nel 1945 Husseini si ritroverà agli arresti domiciliari nei prezzi di Parigi strano verrà rilasciato riuscirà in maniera indisturbata ad andare in Egitto al Cairo nei primi anni 50 del secolo scorso accoglierà i nazisti fuggitivi che andranno nel Cairo un'altra parte andrà negli Stati Uniti di America e saranno accolti dagli Stati Uniti di America gli alleati degli ebrei bene Husseini accoglierà questi nazisti al Cairo che fuggivano con il benestare del presidente Naser ops l'ho chiamato presidente era una battuta perdonatemi il dittatore Naser anche lui alleato dei nazisti ma già dagli anni 20 l'Egitto era alleato coi nazisti l'Islam era alleato coi nazisti Husseini utilizzò alcuni di questi nazisti per allenare i futuri capondringhete della OLP che diventerà al Fatah tra cui preparerà e addestrerà insieme questi nazisti Yasser Arafat e Mahmud Abbas Mahmud Abbas e Yasser Arafat furono addestrati alla guerra da Husseini e i nazisti in Egitto e farà parte di coloro che creeranno i fratelli musulmani da dove viene Hamas al Fatah al Fatah assorbirà l'OLP fondata appunto da Nazer fra il 1968 1970 70 da quel momento OLP barra al Fatah faranno attentati in tutto il mondo atti terroristici veri e propri contro gli ebrei ma non solo contro tutto il mondo ricorderete tutti settembre nero una organizzazione dell'OLP dell'Al Fatah non era un qualcosa di deviato no no era parte integrante quando dirottò quel aereo di linea civile e lo fece atterrare in Giordania in Giordania perché la Giordania era controllata dal terrorismo di al Fatah della OLP e OLP Yasser Arafat viene considerato da molti un po' come Kissinger il magnanimo la persona per bene l'altruista colui che voleva il bene dell'umanità quando fu il peggiore terrorista mai partorito in quel periodo storico bene quindi OLP e Al Fatah avranno le loro basi in Giordania ma non solo in Libia ma non solo in Siria e sempre saranno combattuti saranno espulsi ci sarà guerra ovunque andavano c'era una guerra civile nessuno più li voleva erano disperati Egitto e Giordania ebbero a dichiarare che né un solo palestinese entrerà nei loro territori però Nazer e l'elite faceva parte di tutto questo movimento quindi vediamo che da una parte la retorica come la retorica americana la retorica dei governi prende una direzione i fatti sempre la direzione contraria bene i popoli avvelenati dal pensiero della OLP dell'organizzazione di Al-Fatah o Al-Fat interessante notare che nei trattati di Oslo Israele ebbe ad accettare questa organizzazione terroristica OLP Al-Fat di Nazer Hussein come parte del proprio territorio il territorio ebraico il cui territorio vedendosi invaso da questa gente qua praticamente aveva messo il più grande nemico degli ebrei dentro casa e se tu guardi bene la piantina della malchiamata Cis Giordania praticamente è una costola gigante che ti entra nel territorio e ti può distruggere bene i mass media ci dicono che dobbiamo avere compassione di Al-Fatah di Yasser Arafat dei palestinesi di Hamas ma non vi dicono quello che fanno quello che hanno fatto chi sono qual è il loro pensiero giornalismo dei mass media ufficiali uguale terrorismo giornalismo molto ostacolato fatto dai cittadini è il vero giornalismo scientifico il giornalismo scientifico è il giornalismo che ti dà la notizia alla luce della storia cioè dei fatti e non il contrario come fa il giornalismo ufficiale dei mass media ufficiali che io chiamo i confederati bene i giornalisti ufficiali quelli che io chiamo i confederati citano sempre fonti anonime sempre perché per portare avanti la loro propaganda antisemita il giornalismo scientifico cita le fonti il giornalismo scientifico nasce nella rete fatto dai cittadini comuni bene de facto facendo un passo in avanti dentro Gaza non esiste nessuna infrastruttura civile tutte le infrastrutture sono di stampo militare basti vedere il loro ospedale per rendersi conto che quello che agli occhi del dello spettatore comune sembra un ospedale in realtà altro non vuole essere che il quartier generale dei capi di Hamas dove sotto l'ospedale ci sono molti tunnel dove si vanno a nascondere perché loro sanno che gli ebrei non bombarderanno mai un ospedale quando è successo quello che è successo il 7 ottobre la solidarietà nei confronti di Israele e di tutto il mondo è durata solo 24 ore dopodiché tutto il mondo si è riversato contro Israele e contro gli ebrei ci fu un certo Perlman che dopo la guerra la seconda guerra scriverà la vita di Husseini nel 1948 a New York quando Israele veniva attaccato vi ricordate la guerra del 48 bene a New York ci fu una marcia fatta da una infinità di persone dove nelle strade marciavano e gridavano a basso Hussein tutti conoscevano nel 1948 in tutto il mondo chi era Hussein l'operato di Hussein e tutti lo condannavano oggi nessuno lo conosce perché perché i mass media non informano perché i mass media disinformano quello che la gente capisce è solo ciò che i mass media gli dicono i mass media da chi sono controllati chi detiene il potere della moneta non lo Stato i privati e quindi i privati sono padroni di tutto della moneta quindi dei governi e quindi dell'informazione Hamase o le pie al Fatah che sono la stessa cosa come già detto tutte e due vengono dall'Egitto all'epoca c'era Nazer e Husseini Hamas nascerà dopo e avrà una forza militare infinitamente inferiore al Fatah e nonostante tutto prenderà il potere perché perché Al Fatah o LP e Hamas non sono nemici molto semplici molto semplici in questo momento l'Islam sta concretizzando semplicemente la sua teologia la Jihad l'ottanta per cento del Corano parla di uccidere ebrei cristiani infedeli Maometto gli fu detto da Allah chi non ti crede che io sono colui che ti parla lo devi uccidere ecco perché gli islamici terroristi estremisti uccidono perché l'ottanta per cento del Corano è contro tutto ciò che non è Islam compresi gli stessi islamici che non la pensano come loro qualcuno dirà fu una minoranza il 7 ottobre che bruciò i neonati sì ma la maggioranza lo ha applaudito sì molte bottiglie sono state stappate a porte chiuse dentro milioni di case di islamici già il Corano non è un libro di pace se un ragiona se un iman ti dice sei pacifico e poi colui islamico che sente l'iman dirsi si pacifico apre il Corano e legge uccidi gli ebrei uccidi i cristiani uccidi gli infedeli che pensi che ascolterà un islamico che sarà una brava persona perché non farà tutte queste cose sarà un pessimo musulmano mentre invece un bravo musulmano che metterà in pratica i precetti di Allah di uccidere ebrei cristiani e infedeli sarà una pessima persona quindi è questione di tempo quando si creeranno le situazioni che allora si accenderà la miccia e succederà la catastrofe le moschee d'Europa create e finanziate dal Qatar dall'Arabia Saudita dal Queso e alcune dall'Iran le università dell'Europa vengono finanziate dal Qatar ma che gliene importa al Qatar delle nostre università nessuno ti regala nulla impara ma la gente crede a tutto quello che gli pare oh sì il Qatar viene qui in Europa entra dentro una università e ti dice sai che c'è ti regalo i soldi quanti milioni di dollari vuoi e perché guarda quello che sta accadendo nelle università d'Europa e degli Stati Uniti di America centinaia di migliaia di giovani che non sanno nulla di tutte queste cose marciano non tanto a favore dei palestinisi perché il loro grido è morte agli ebrei jihad sterminio non gli importa dei palestinisi non gli importa degli ebrei tanto quelli che stanno dentro Eres Israel loro vogliono uccidere gli ebrei anche quelli che stanno fuori solo per essere ebrei li vogliono uccidere e vogliono uccidere tutti quelli che li difendono e che la pensano come loro perché come si può muovere una massa del genere in maniera naturale è impossibile nulla di questo avviene in maniera naturale guarda se qualcuno ha protestato per i milioni di africani che muoiono ogni anno perché la Francia concretizza l'apartheid nei confronti dell'Africa del franco-francese e così via discorrendo a nessuno importa quello a nessuno importa che gli egizi hanno fatto un muro per non far passare i palestinisi non gli importa a loro interesse è il muro che sta dalla parte degli ebrei non il muro che sta dalla parte degli egiziani gli egiziani possono fare tutto nessuno marcerà contro di loro li possono anche trucidare nessuno marcerà contro un solo egiziano perché il protocollo viene dettato dai paesi islamici il denaro a fiumate arriva dal Qatar nelle università e i professori imbevuti della sinistra Fabiana sono il 99% antisemiti nonché ignoranti che non sanno neanche che è esistito che non è mai esistito un popolo palestinese nella storia cominciando dall'antisemita Jacinto Butindaro che ha detto pubblicamente che i palestinesi sono i discendenti dei filistei signore misericordia misericordia detto da uno che si fa chiamare e ci lo vuole lo pretende dottore della legge finché lo fa il mondo non cristiano uno se lo aspetta ma quando uno autodenominato dottore nonché cristiano dice una cosa del genere non solo è ignoranza è antisemitismo perché è quella la scusa dell'antisemitismo definire i palestinesi filistei è la scusa che viene utilizzata per perseguitare gli ebrei cosa non vera fra l'altro si è scoperto da studi recentissimi di due o tre anni che esattamente i filistei scomparsi or sono 2500 anni venivano dalla parte di quello che oggi conosciamo come Grecia e quant'altro wow avete mai sentito parlare dei protocolli di Sion a proposito di antisemitismo Maurice Jolie scrisse il famoso libro già detto e ridetto dialogo all'inferno fra Machiavelli e Montesquieu ricordate quando Montesquieu rideva di quello che stava succedendo intorno al 1848 in Francia con Bonaparte e quant'altro la polizia segreta di Bonaparte interessante insomma ci fu la rivoluzione poi ci sarà la rivoluzione dopo dopo il 48 Montesquieu ride esulta davanti a Machiavelli nell'inferno e Machiavelli lo guarda e gli dice povero illuso povero illuso e gli dice datemi un servizio segreto datemi un servizio segreto e io conquisterò tutta la nazione con la facciata della democrazia ed è esattamente quello che succederà negli Stati Uniti di America che verrà creato un servizio segreto chiamato la CIA con poteri illimitati che può fare tutto a tutto il benestare politico a tutto l'oro del mondo che gli serve per fare il bello e il cattivo tempo non solamente nella propria terra ma in tutto il mondo guarda i fatti gli Stati Uniti di America sono un paese democratico per quelli che vi abitano o no? risposta io dal mio canto ho il terrore di mettere un solo piede negli Stati Uniti di America quanto ho lo stesso terrore di mettere un piede in un paese islamico ma facciamo un passo indietro Parigi 1900 lo zar la polizia zarista l'ufficio della polizia zarista a Parigi vi è vi era un certo Drummond Edward Drummond che tutti quanti conosciamo come il più grande antisemita di quel di quel tempo 1844 1917 fu uno scrittore francese che aveva dei contatti con la polizia di Parigi zarista eccetera 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 Edward Drummond prese lo scritto di Maurice Jolie vi ricordate Machiavelli Montesquieu lo riscrisse nuovamente in chiave antisemita cioè per dare addosso agli ebrei e praticamente fece passare tutto quello che lì viene detto lo attribui agli ebrei dicendo che praticamente gli ebrei controllavano tutto tutto il capitale del mondo e così via discorrendo e allora gli sarà posto come titolo a quello scritto i protocolli di Sion tutto questo i cattedratici di sinistra quelli che vengono dalla Fabian Society come pensiero e la stessa destra viene dalla Fabian Society il nazismo è figlio della Fabian Society e così via discorrendo non vi diranno mai wow USA alleati di Israele sei sicuro l'ocneset qual è stato il comportamento dell'ocneset io non sono contro l'ocneset ma l'operato di alcune persone che si trovano dentro l'ocneset mi fa riflettere nel 1991 cercateli questi dati 1991 ci fu una conferenza dove a Madrid la conferenza di Madrid ospitata dal governo spagnolo convocata il 30 ottobre del 1991 della durata di tre giorni fu il primo tentativo da parte della comunità internazionale di avviare un processo di pace attraverso negoziati riguardanti Israele e il new popolo palestinese nonché paesi arabi compresi la Siria il Libano immancabile e ovviamente la Giordania in questa conferenza ci andò un giovane chiamato Netanyahu Netanyahu attuale premier israeliano sapeva molto bene che era proibito negoziare con l'OLP lui lo fece gli aprì le porte e nel 1993 nascerà Oslo e quindi praticamente OLP al Fatah prenderà il controllo di tutta quanta la Cisgiordania dando così la terra di Israele in mano a loro qualcuno dirà lo fece per ignoranza lo fece per ignoranza di chi era figlio Netanyahu di chi era figlio Netanyahu di Benzion Alessio e chi era Benzion Benzion Netanyahu chi era era uno storico israeliano che non solo combatté la guerra ma che fece del tutto per far giustiziare Husseini e quindi l'attuale premier Netanyahu sapeva benissimo chi era Hussein chi è al Fatah chi è l'OLP il fatto che l'OLP organizzò e finanziò la rivoluzione iraniana nel 1979 tutte queste cose lui le sapeva per quale motivo permise che la terra di Israele ricordate cosa quel premier che gli prese lictus come si chiamava signore santo il premier che gli prese lictus che andò in coma ora non mi viene comunque cercatelo perché aveva ceduto aveva ceduto del terreno agli arabi ai palestinissi e Caduri andò da lui e gli profetizzò siccome tu hai ceduto questa terra tu andrai in coma e andò in coma qualcuno dirà perché poi quando tu attacchi il governo ti danno subito dell'antisemita allora se c'è uno che ama gli ebrei ed è pro ebrei e pro israele è proprio il sottoscritto con tutto il cuore e combatto per l'amato popolo ebraico popolo di dio e tutto quanto quindi dare addosso allo allo cnesset al 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 premier di turno non vuol dire essere antisemita rifletti ti faccio una domanda del milione esiste un governo che non abbia remato contro i propri cittadini in italia negli anni 90 ci hanno tolto la sovranità monetaria che fu a spogliarci del nostro denaro il governo chi ci impoverisce il governo chi ci tartassa il governo a tutto il mondo succede questo a tutto il mondo perché non dovrebbe succedere la stessa cosa in israele le oligarchie che controllano il mondo sono contro i cittadini vedi le pietà di Giorgia e loro non stanno a guardare se sono americani si preoccupano del popolo americano o se sono ebrei come Rockefeller come Roshide e quant'altro se gli altri sono ebrei come loro perché loro viaggiano a un altro livello per loro tutti quelli che non sono come loro sono da distruggere ora io non voglio mettere nero su bianco che Netanyahu lo abbia fatto appositamente con tutto il il cuore come si dice apposta io vi porto i fatti poi se è stato costretto se non poteva farne a meno i fatti sono questi poi ciascuno prenderà avrà le proprie idee ma i fatti sono questi c'è una cosa che nessuno mi toglie dalla mente quello che è successo il 7 ottobre che tutti quanti dicono eh ma non ce l'aspettavamo senti io mi chiamo Alessio Evangelisti e l'anello al naso non l'ho portato neanche a 15 anni e se qualcuno porta l'anello al naso per carità ognuno è libero di fare quello che vuole ma io non è che lo stimo ma battuta a parte quando ci fu l'attacco del 7 ottobre e fu lanciata immediatamente l'allarme gli aiuti da parte dell'esercito israeliano arrivarono 12 ore dopo la domanda del milione è che ti costava anche se tu eri impegnato nel Libano a fare alzare 10 elicotteri dico 10 10 elicotteri 10 con dei mitra avrebbero e ci mettevano mezz'ora dal confine più lontano ad arrivare lì mezz'ora sarebbero arrivati con 10 elicotteri armati dei mitra loro tutto quello che è successo il 7 ottobre non sarebbe successo tu puoi dire quello che vuoi io guardo i fatti io guardo i fatti come guarderò e tra un po' ne parlò ne parleremo guarderemo i fatti degli Stati Uniti di America nei confronti di Israele dell'Iran dell'Ira che così via discorrendo io guardo i fatti quindi le persone la popolazione e il governo ovvero quella parte marcia del governo sono sempre situazioni diverse e sempre discutibili sì è come un po' gli USA gli USA sono nemici dell'Iran a parole sì ma come già detto nei video precedenti Ronald Reagan uno su tutti troppi ce ne sono stati ha sempre negoziato con l'Iran o ve lo siete dimenticati al di là della retorica guarda i fatti Reagan donerà all'Iran 8 miliardi 8 miliardi all'Iran l'arcinemico di Israele dirà in cambio dei prigionieri falso si scoprì che Reagan molto prima che i prigionieri saranno fatti tali donerà all'Iran miliardi di miliardi di miliardi di miliardi in armi prima dei famosi prigionieri il presidente oltretutto ricordo il presidente in America non è lui non conta nulla è il sistema che comanda o ci va Trump o ci va Biden o ci va la Clinton la gente dice se va Biden succederà questo se va Trump succederà questo non è vero non sono loro che comandano e la storia ci ha insegnato che lo stesso Trump non sapeva che delle cose succedevano e che il governo americano prendeva delle decisioni senza che lui sapesse nulla il presidente in America non conta nulla tornando al discorso di prima di Ronald Reagan Hezbollah aveva sequestrato cinque marines in Libano negli anni 80 il primo sequestrato di questi marines fu nel 1982 bene Ronald Reagan diede miliardi all'Iran prima del 1982 già a partire dal 1981 armi che dovevano e potevano essere utilizzate contro gli ebrei come già detto per qual motivo gli americani hanno attaccato l'Iraq l'arci nemico dell'Iran con la scusa del nucleare quando non solo l'Iraq non aveva il nucleare ma l'Iran ha il nucleare e non lo hanno attaccato guarda i fatti guarda i fatti così come ti dico vedi le leggi di Norimberga 1935 sono le stesse leggi della Fabian Society dell'eugenetica altro che la sinistra non c'entra niente con il nazismo è la stessa cosa guarda quello che fa il re Carlo di Inghilterra il più grande studioso dell'Islam in Inghilterra affezionato all'Islam gode di una profonda stima ed possiede una profonda empatia con il Corano quali sono i fatti in Inghilterra che l'Inghilterra è una delle nazioni più islamiche di tutta Europa e una infinità di sindaci in Inghilterra sono islamici musulmani hanno appena vinto le elezioni e già stanno gridando Free Palestine distruggeremo gli ebrei nessuna nazione europea ha aperto le porte ai palestinesi ma sì molte nazioni hanno aperto le porte ai siriani e chi sta a capo di queste nazioni l'oligarchia l'oligarchia così come usa creolisis di questo ne ho parlato su Telegram c'è il piccolo scritto potete leggerlo io lo chiudo qui il podcast vi ho dato una carrellata di informazioni una infarinata Am Israel Chai Israele viva sempre ci troviamo alla fine dei tempi i due giorni predetti da Osea 6 verso 1 e 2 e questi due giorni amati ebrei che seguite questo canale e amati amici cominciano duemila anni fa perché il mondo duemila anni fa si divise in due avanti Mashiach dopo Mashiach non date retta ai vostri rabbini che vi insegnano che il cristianesimo è uno strumento creato da Hashem per sensibilizzare il mondo al giudaismo è la più grande scusate il termine cacchiata che vi abbiano mai detto creare quello che loro chiamano qualcosa di eretico per portarti a un qualcosa di non eretico ma vi rendete conto come vi prendono in giro con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo podcast Shalom Baruch Hashem Maranatah Grazie a tutti